Nella nostra barberia olfattiva cura della barba potrai rivivere l'esperienza della rasatura tradizionale come quella di una volta e la cura della barba con il taglio di capelli più adatto alla tua persona. Inoltre potrai scegliere i tuoi regali di Natale da uomo con prodotti utili e di classe. Cura della barba a Pesaro in via Passeri 5 Vieni a trovarci anche nel negozio di Fano in via Arco d'Augusto